come qualcuno disse essere o non essere così io adesso dico essere e non essere così io adesso dico essere e non essere ed è tutto vero ma aggiungo ma è dentro la ragione perché appena fuori diventa un buco nero e l'acceleratore che hanno detto hanno provato va bene per qualcosa peraltro è limitato perché è l'intelligenza quell'area di confine dove l'uomo si perde a rincorre la ragione è giusta la ricerca è giusto il cambiamento questa è l'antica legge che dà ragione al tempo e l'uomo fa fatica di nuovo a cambiare vita ma mentre il vecchio saggio così è messa a dura prova il bimbo non ha vecchio il vecchio è cosa nuova